In Calabria torna un antico derby in Serie B, sabato pomeriggio si affrontano a Lezio Scida Crotone e Regina, noi ne parliamo in questa vigilia con i colleghi di Crotone Reggio Calabria ma ne parliamo soprattutto con un doppio ex che è Rubens Pasino al quale diamo subito il benvenuto in questa chat con Claudia Berlingeri da Crotone e Vincenzo Ielasi da Reggio Calabria. Bentrovato Rubens, doppio ex allora, che partita ti aspetti? Buongiorno a tutti, grazie, sarà un bel derby dopo sicuramente un po' di tempo con la gente che può tornare allo stadio quindi mi auguro che sia un bello spettacolo in campo e che possa vincere la squadra che giochi meglio è l'unica cosa che mi sento di dire, sicuramente sarà una bella partita attesa perché comunque Crotone e Regina è sempre una partita molto sentita da ambo le tifoserie. Intanto le ultimissime, cominciamo da Crotone Claudia, questo derby mancava da ben otto anni a Crotone Sì, assolutamente sì, ritorna finalmente il derby tanto atteso da ambo le parti e quindi c'è la piazza scalpita nel rivedere finalmente, quest'anno ci saranno due i derby sabato si inizia all'uscita con Crotone e Regina, poi ci sarà anche quello col Cutenza però insomma finalmente torna il derby della Magna Grecia con mister Modesto Torna anche il pubblico perché la curva sarà piena di tifosi, almeno da domani si riprende a frequentare lo stadio Esatto, esatto, la curva attraverso un comunicato ha spiegato che insomma finalmente si ritornerà a lottare dall'interno insomma dello stadio, della curva con la presenza per dare quella carica in più ai ragazzi si sa che all'uscita il dodicesimo uomo in campo sono sempre stati i nostri tifosi Ecco, a dare a giocare poi invece partirei proprio dai tifosi perché non mi pare che siano stati venduti tanti biglietti per i tifosi della Regina che vorranno andare a vedere la gara all'uscita di Crotone Vincenzo? No, sono circa 100 i tagliandi venduti a ieri, c'è tempo fino a oggi alle 19 per acquistare i biglietti validi per il derby di domani Sicuramente tanti aspetti hanno influito sul basso numero di tagliandi acquistati L'anima più calda, quella della curva, già alla vigilia del campionato aveva annunciato la sua assenza dagli stati in protesta anche con le ultime disposizioni per l'accesso agli impianti sportivi L'ulteriore decisione di inserire l'obbligatorietà della testa del tifoso per la trasferta sicuramente ha assopito maggiormente l'entusiasmo della tifoseria Maranto Immagino che comunque non si andrà tanto oltre il numero che ieri e che questa mattina poi su Gazzetta abbiamo dato delle 100 unità E' tornato nel frattempo Rubens Pasino che ci stava descrivendo le sue sensazioni da doppio ex Abbiamo visto insomma cinque anni a Reggio Calabria non si dimenticano anche se le soddisfazioni a Crotone sono state tante A Crotone hai giocato un campionato e lo hai anche vinto realizzando quasi gli stessi gol che hai realizzato a Reggio Calabria Sì, diciamo che è stata una delle mie migliori stagioni quella del Crotone Forse addirittura è stata la mia migliore perché è stato un anno straordinario Sicuramente sono arrivato a Crotone nei miei migliori anni, avevo 28 anni, 27 o 28 E quindi forse magari era anche un pelo più maturo A Reggio sono arrivato più giovane, ho fatto cinque anni, ho giocato anche in tutti i ruoli dell'attacco Tante volte magari non proprio nel mio vero ruolo che era quello della mezza punta Però insomma, in effetti a Reggio non ho segnato tantissimi gol Sono più stati quelli che ho fatto fare che quelli che ho segnato Però diciamo che è andata bene comunque Però ne hai fatto uno al centrocampo Sì, a Gualdo ne ho fatto uno al centrocampo che ancora adesso si ricordano tutti Perché è valso, diciamo, tre punti importantissimi per la vittoria del campionato Senti, conosci molto bene tutti e due gli allenatori Con Aglietti ci hai anche giocato? Sì, conosco meglio Alfredo sicuramente Con Modesto comunque anche se siamo passati diciamo alla Regina Ho avuto modo di forse anche giocarci contro l'avversario Un tecnico molto preparato, un tecnico giovane, un tecnico moderno Quindi molto in gamma anche lui Rubens, da un lato una squadra che viene giù dalla Serie A Dall'altro una squadra che in Serie A ci vorrebbe tornare presto Insomma, ha anche allestito un organico da un paio di stagioni per puntare al salto di categoria Come vedi questo derby dal punto di vista tattico? Ma allora, dal punto di vista tattico prevedo magari un crotone molto aggressivo Andare ad attaccare alto la Regina, cercare di imporre il proprio gioco E dall'altro canto magari mi aspetto una Regina che poi magari aspetta il momento giusto Per poter magari piazzare la stoccata da questo punto di vista Per quello che intendevi te, è chiaro che dopo una retrocessione dalla A Ci vuole magari qualche giornata in più per metabolizzare un pochettino Ho il dispiacere di essere ridiscesi dalla A alla B Però visto che comunque la squadra è stata molto rinnovata Quindi gli interpreti sono diversi Poi Protone comunque è abituata a questi saliscendi Reggio invece aspira a tornare in Serie A dopo tutti gli anni passati Diciamo a cavallo nei primi anni 2000 E comunque è una grande tifoseria anche quella della Regina che lo merita E anche se è un campionato molto difficile Claudia, da Protone, una domanda per il nostro ospite Il ricordo più bello che ha a Protone è a Reggio Calabria A Protone io nel 99-2000 ero a Cosenza in realtà perché ancora studiavo Però scendevo sempre per vedere ogni partita del Crotone nella curva Ed ogni giornata era spettacolare Davvero complimenti per un campionato eccellente Ti ringrazio Sono stati tanti momenti belli Sicuramente il Crotone magari essendoci stato meno tempo Mi ricordo benissimo la festa promozione Che è stata l'unica partita che ho saltato Perché mi aveva fatto male la partita precedente È stata una partita con il 2-2 in casa con la Juve Stabia È una festa meravigliosa Durata praticamente 24 ore E quindi tanti momenti bellissimi Mentre a Reggio ce ne sono tanti di momenti belli È stato quasi cinque anni Quindi mi ricordo perfettamente anche lì La partita con l'Avellino Quando siamo andati a vincere 1-0 ad Avellino Un po' sancendo un pochettino Mettendo la firma su quella che era poi la nostra vittoria finale Salvezze diciamo i primi due anni di B miracolose Specialmente il primo anno con le quattro vittorie consecutive finali E poi tante altre cose che magari adesso tra distanze di anni Magari un po' dimentico Però tanti momenti belli Vediamo un titolo dal nostro giornale Vediamo se siete tutti d'accordo con questa dichiarazione di Mr. Colomba Amaranto favoriti ma può succedere di tutto Cominciamo da Vincenzo E allora sono d'accordo con l'analisi di Mr. Colomba La regina è favorita se guardiamo comunque l'organico Nel senso che comunque è una squadra ricca di esperienza Di solidità, di affidabilità Ci sono nomi di calciatori che la Serie B la conoscono E che sono protagonisti in questo campionato da parecchie stagioni Il Crotoni invece arriva a questa nuova esperienza Adargata Modesto con una squadra molto rinnovata Molto giovane La squadra che per medietà è più giovane in questa cadetteria Ed è una squadra che chiaramente anche per assimilare Quelle che sono le idee di calcio di Modesto Probabilmente avrà bisogno di un po' di tempo in più per lavorarci Alla partita la regina arriva con due assenze molto pesanti Che sono quelle di Menez e di Rivas Due giocatori determinanti nel successo contro la Ternana Alla seconda giornata Rivas soprattutto è entrato in tutte le tre marcature a Maranto L'ultima l'ha realizzata e le altre due le ha praticamente procurate Però arriverà questa sera di rientro dagli impegni con la nazionale honduregna in Sud America Quindi è quasi impossibile ipotizzare, azzardare una sua presenza Sono due assenze importanti perché comunque erano i giocatori che probabilmente avevano iniziato meglio per condizione fisica questa stagione Potrebbero essere assenti anche German Dennis che oggi 10 settembre compie 40 anni e che è ancora alle prese Con un problema al ginocchio che lo ha messo fuori uso già nelle prime due uscite Ed è in dubbio anche Asia Pong l'esterno destro che da una settimana non si allena con i compagni Chiarissimo, le ultimissime da Crotone dove però si è messo in evidenza in questo periodo di campionato Questo giovane mulattieri che insomma sembra essere indirizzato verso un grandissimo campionato Parlacene brevemente, poi volevo sentire anche il giudizio finale di Ruben Spasino Sì, si è messo talmente in evidenza che gli è valsa la chiamata con la nazionale under 21 Con la maglia con cui ha esordito proprio qualche giorno fa Modesto arriva con tante incognite a questo derby perché oltre al fatto che bisognerà vedere come stanno i nazionali Quindi non solo mulattieri ma anche del Cearu che sono rientrati da pochi giorni Però oltretutto ci sono i nuovi acquisti che sono arrivati da due settimane con la chiusura del mercato Per cui le incognite sono tante a partire dalla porta perché c'è il ballottaggio tra feste e Contini In difesa se prima Modesto aveva gli uomini contati con Vicentin, Mondonico e Nedel Cearu Adesso può contare su Paz, sulla sua esperienza e su Canestrelli, un giovane promettente dell'Empoli Idem per il centrocampo perché sulla destra potrebbe inserire Molina Ma potrebbe anche usare Mogos e Molina a sinistra o Sala se mette Molina a destra E come interni dovremmo vedere i nuovi Esteves e Don Sa che dovrebbero apportare qualità e quantità al centrocampo L'ultima parola la lasciamo a Ruben Spasino Non so se conosci molti degli interpreti di questo derby, dei ragazzi che scenderanno in campo Ma conosco un po' quelli un po' più anziani, per essere sincero perché sicuramente la regina sono dei giocatori che nominati prima Che mi dispiace che non ci siano perché comunque sono giocatori di grande esperienza E quindi sia Menes che Germán Denis comunque sono giocatori che in questo campionato nonostante l'età possono fare ancora differenza Devo essere sincero, beh Mulattieri sicuramente è un giocatore che ha di grande prospettiva Sicuramente si è già messo in evidenza E tanti altri giocatori del Crotone spero di scoprirli in questo campionato Perché comunque la dirigenza ci ha sempre visto lungo E quindi è sempre andata alla caccia di giocatori che poi dopo hanno fatto un'ottima carriera Devo essere sincero, sì qualche nome, non lo conosco I nomi citati Pronostico? Pronostico? I pronostici di solito sono difficili da fare Soprattutto quando sei un doppio ex Quindi non mi sbilancio perché non vorrei portare male o di qua o di là Quindi non dico niente, vinca il migliore Quello che se lo meriterà sul campo è che sia un bel derby E che anche non succeda niente Che le tifoserie si divertano e facciano vedere tutto il loro calore e il loro colore Grazie a Ruben Spasino A Claudio Berlingeri da Crotone A Vincenzo Ielacqua da Reggio Calabria Torneremo con i nostri pubblici a sentirci nel corso di questa stagione E buon derby a tutti Grazie per averci seguito Grazie ancora